Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per incidente, 3 km di coda con tendenza all'aumento tra Firenze e Sud e in Cisareggello in direzione di Roma. Verso nord rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 variante per lavori, 1 km di coda tra Via 1 variante e Sasso Marconi. In A11 restano rallentamenti per traffico tra Pistoia e Il Viveo con la 1 e coda per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. Tutto in direzione Firenze. Arriviamo in A12, 2 km di coda tra Sarzana e Carrara per chi viaggia verso Livorno. Scipili rallentamenti per cantieri tra Empoli e San Miniato, ancora una volta in direzione Livorno. E prima di salutarci per la cantieristica sulla SR429 di Valdelsa per lavori di estensione rete gas metano, senso unico alternato all'altezza del km 47 nel comune di Certallo fino al 30 settembre. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.